buongiorno allora oggi il cielo è un po nuvoloso però abbiamo visto che nel sud della corsica dovrebbe esserci una bella giornata quindi oggi rispettiamo il piano che avevamo detto ieri e andiamo verso la spiaggia della palombagia e facciamo colazione questa notte dobbiamo andare metto in questo parcheggio che è tipo un campo da calcio andiamo a mangiare oh baguettina avevamo parcheggiato praticamente di fronte alla boulangerie quindi siamo svegliati siamo andati a prendere il pane e il croissant e il pane a cioccolà e il pane a cioccolà colazione un bel croissant vediamo dove il tempo è bello stiamo andando in direzione Porto Vecchio siamo arrivati al camping di Pini adesso andiamo alla reception prendiamo un posticino e poi andiamo in spiaggia qui io entrerò di retro qua qui? va bene che dici? siamo arrivati adesso ci prepariamo e poi andiamo in spiaggia è ottimo questo parcheggio si chiama camping in Pini e costa 4 euro se ti pierdi solo per la giornata oppure 10 se stai anche la notte quindi abbiamo speso 14 euro prezzo super onesto dai Samu ragazza lei? di lui? si? se da da fare c'è il culo in mano ti fai le cazzate io ti riprendo perché è importante ricordarsi il momento ma se lo faccio lo puoi diventare il tuo anno magari questo camping è veramente molto carino lì c'è la reception e giù in fondo ci sono le toilette guarda quanto ci muovono le strumenti nuve siamo sul zupp peccato che non c'è il sole però si sta molto bene siamo nella spiaggia della palombagia spiaggia della palombagia vista dal mare adesso cado nell'acqua precisa 10 se 10 vuoi di qualcosa o è un video inutile? siamo l'ho già detto siamo nella scuaggia della palombagia adesso andiamo con il zupp a vedere tutto il litorale il litorale il remite il litorale si dirà non è meglio va a vedere come remi Giulia aspetta che non ho messo in sicurezza la polsa la scusca adesso mi colpisce la mano mi cade nel ricordo del hotel se lo andrà se lo andrà non va bene vedi apagare o per qualcosa no non, non in non va bene non va bene ok, ok 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 Grazie a tutti. Siamo in una piscina. Siamo ritornati dal giretto in soup e adesso siamo a fare la frittata. Buon appetito! 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 che abbiamo fatto per arrivare fino al camping Aipini a Portovecchio. Vi lascio una breve anticipazione del prossimo video sulla Corsica. Voi iscrivetevi, lasciate un like e commentate che io vi leggo sempre tutti. Presto caricherò anche il terzo video. Ciao ciao! Un saluto!